Finisce in gloria sotto i riflettori del russo di Via Grande il big match tanto atteso della terza giornata. Il Cittadini Misterbianco piazza il filotto 3 su 3 e lo fa con lo stile da macchina da gol delle prime due uscite. Batte senza appelli anche l'elefantino che si presentava a punteggio pieno alla vigilia di una partita che se non era spartiacqua per il campionato avrebbe indicato sicuramente qualche valore in più sul trend della lotta al vertice del girone di allievi regionali. In definitiva 5 reti e gara archiviata in poco più di un'ora e appena 13 minuti per stendere un avversario prevalentemente posto sulla difensiva. Un rigore procurato da Tucci abile a catapultarsi su un pallone indirizzato da angolo sulla testa di Leotta e respinto dal portiere. Un rigore trasformato da Gioele Prividera che ha dovuto attendere ben tre partite prima di sbloccarsi e per un attaccante non è cosa da poco. 1-0 e parentesi elefantino a caccia del pari sarà uno dei due momenti di ripiegamento mister bianchese una delle due fasi di avere proprio il rischio dentro 90 minuti di predominio territoriale. Ghieri ha ben piazzato su testa di Carpinato, blinda la porta, poi è costretto a fermare così Nicotra che a tutta velocità si conquista un calcio di rigore in risposta a quello degli ospiti di 10 minuti prima. Incrocio dei pali netto di Condorelli e niente pari per l'elefantino che accusa fortemente il colpo. Il CDM scampa il pericolo e ricomincia senza più ostacoli. Alessio Toro su calcio da fermo, poi Nigro, possesso prolungato sulla tre quarti, scarico su Prividera e tiro a fil di palo che rimbalza nei pressi del montante. Poi una strepitosa ruleta da parte del numero 11 del Cittadini Mister Bianco che elargisce ovazione in tribuna, altro destro secco e palla alta di non molto. Quindi lancio preciso di Gabriele Toro da palla inattiva, sponda di Tucci e raddoppio mancato per imprecisione. Gli assist piovono anche in zona Farinato, duettano Scardaci e Prividera che sono costretti a rimandare il gol al pari di Caruso poco dopo che dopo combinazione Alessio Toro Scardaci piazza all'interno sinistro all'incrocio senza risultati. Intanto proprio uno dei due gemelli è costretto a lasciare alla mezz'ora spazio a Nicolosi. Non cambia nulla, il verde predomina, rimessa di Farinato, giocata di sfondamento da parte di Scardaci, Prividera e Tucci. Spingi che ti spingi alla fine, Andrea Caruso al secondo tentativo, stavolta da distanza ravvicinata raddoppia mettendo fine a quello che era diventato un vero e proprio assedio. 0-2 al 39esimo per Caruso e il secondo centro in stagione. Sprazzi di Elefantino nel finale di primo tempo, Nicotra alza la mira col mancino da buona posizione. Nella ripresa si parte subito con la risposta sinistra di Scardaci al limite, bloccato il pallone. Poi Nigro in profondità per Marchese, gamba tesa all'ingresso dell'area da parte di Scuto. Altro rigore di questa partita e il terzo complessivo si attende solo Ciccio Scardaci in gol, destro a spiazzare all'estremo di casa. Ed è 0-0. Il digiuno sottoporto ha durato un tempo, scatena l'appetito del centravanti, qui servito in velocità da Marchese. Si fa ipnotizzare da Privitera. Da un portiere all'altro, Ghiaria vuole assolutamente la porta inviolata per la terza partita di fila e ci riesce, bloccando Di Mauro. Nicotra apporta un'altra minaccia al CDM ma senza scossoni dal punto di vista del risultato e si va avanti sul 3-0. Il tecnico Daniele Coriolano ne cambia diversi dalla metà di questa ripresa sino alla fine. Spazio un po' per tutti da trombetta a grasso da Di Mauro a Musumeci, che rilevano Tucci, Nigro, Caruso e Marchese. L'elefantino accorcia le distanze, una leggerezza sulla quale Nicotra ne approfitta, segnando l'1-3 a 20 dalla fine, mettendo una sottile suspense al risultato, che comunque il cittadino mister bianco ristabilirà nel giro di pochi istanti. Marchese, prima di uscire, confeziona l'assist a beneficio di riceve, si scardaci riceve, si libera di un difensore, usa il sinistro per bucare ancora e portare tutti sull'1-4 ma anche regalandosi la personale soddisfazione di salire a quota 10 in classifica. Marcatori, il tutto a un quarto d'ora dal termine, poi torna a riproporsi il duetto con Privitera e al novantesimo. Si mette la firma alla contesa anche da parte di Gabriele Toro, altro ad aggiungersi all'ampia truppa di marcatori. Mister Bianchesi un colpo di testa sul palo più lontano che vale l'1-5. Applausi finali per Scardaci, rilevato da Pulvirenti, subito dopo l'ultima perla di giornata, il CDM sbanca via grande e accompagna in vetta la sera nascente dopo tre turni di campionato. Sabato al Mazzola, ipotesi formalità, il poker cicli, ultimo in classifica, ultimo in... È stata una partita molto impegnativa, che sono stati in preciosità dei tre punti e la squadra ha fatto un'ottima partita. In settimana ci siamo impegnati molto in vista della partita, una delle più importanti del campionato. Appunto il risultato del duro lavoro è arrivato. Stefano Tucci, dopo una settimana di attesa sono arrivati i tre punti con un risultato roboante. Qual è il segreto della vostra squadra? Il segreto è la nostra grinta, l'impegno che ci mettiamo in ogni partita e in ogni allenamento. Ha funzionato tutta la squadra, i meccanismi del mister, i consigli e la grinta anche del mister che ci mette a noi. Una squadra, la vostra, che segna bei gol e anche tanti? Diciamo che possiamo fare anche più gol. Di segnare belli sì, perché anche il nostro ciccio ci delizza con i suoi gol. L'unico ne o il primo gol subito? Eh sì, potevamo anche evitarlo, la difesa è un po' aperta, però ci sta dai.